buongiorno buongiorno oggi è mercoledì 28 febbraio la segna stampa in breve di video 33 nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione cielo sereno su gran parte del territorio alto tesino nelle prime ore di questa giornata è previsto però un lento ma costante peggioramento che porterà a maggiori nuvole nella giornata di domani una maggiore presenza delle nuvole in regia abbiamo massimo moro andiamo a vedere quello che accade questa mattina intorno alle 6 e 30 in alta valvenosta le luci sono quelle del centro abitato di malles vedete il cielo sereno ma come detto è atteso un peggioramento andiamo a vedere come sempre la grafica innanzitutto della provincia di bolzano temperature minime ancora in flessione meno 7 gradi questa notte nel capoluogo nelle ore più calde non dovremo superare i tre gradi due gradi di massima amerano identica situazione nella vicina provincia di trento dove nelle ore centrali nel capoluogo avremmo solo quattro gradi come temperatura massima andiamo a vedere con l'aiuto della regia quali sono le aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola il corriere dell'alto adige lavori pubblici per 180 milioni di euro l'opposizione parla di un regalo elettorale e poi il caso della tubercolosi caso di tubercolosi colpita una maestra d'asilo a salorno nessun problema per i ragazzini per lo sport l'oro olimpico alto tesino manca il ricambio i dettagli a pagina 12 dedicato spazio anche la grande festa di ieri alla cantina di lineburg premiati gli atleti che sono tornati dalle olimpiadi tra loro anche lucas hofer medagliato olimpico nel biathlon dalle sue parole le sensazioni del dopogara beh di sicuro porta a casa il momento della medal ceremony però ancora di più il momento quanto abbiamo dovuto aspettare all'arrivo quando non si sapeva abbiamo vinto o non abbiamo vinto quelli erano i minuti più brutti della mia vita ne avrò perso tantissimi anni in quel momento torniamo alla cronaca dei quotidiani purtroppo la cronaca nera in apertura sul quotidiano alto adige schianto muore una ristoratrice tragedia ad arsie la vittima è la bolzanina sabina zadra 52 anni da tempo residente fuori provincia questa è proprio l'apertura del quotidiano il trentino a castello tesino gestiva il tastavine sempre con la cronaca nera muore nello schianto frontale questa è l'apertura dell'adige vittima sappiamo sabina zadra di 52 anni torniamo in provincia di bolzano con il quotidiano dolomita meno 32 gradi punte estreme di grande freddo in provincia di bolzano la val senale su uno dei luoghi più colpiti da questa ondata di gelo l'inserto economico vicu il futuro del motore diesel cosa accadrà in europa e nel mondo nei prossimi anni il corriere della sera napoli caos neve scuole chiuse dal nord al sud ancora treni cancellati il sole 24 ore la svolta della germania stop alle auto diesel in città sentenza della corte federale che introduce la possibilità di divieto l'annuncio della raggi dal 2024 alt nel centro di roma è tutto in chiusura vi ricordo gli appuntamenti da non perdere in provincia di bolzano crazy boba forni di sopra andiamo oltre i confini quindi il 2 di marzo il 4 di marzo la partita di hockey su ghiaccio tra bolzano e snoimo dal 9 all 11 di marzo festival del formaggio a campo tures il 22 di marzo la riapertura della stagione dello slow spirit della forst è tutto vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di video 33 ciao 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 ciao